Io, beh, allora, Wim Wenders è un bravissimo regista, ma non capisce niente di leggi e di diritto italiane di immigrazione, quindi basta, allora sarebbe come se io adesso mi lanciassi in una critica cinematografica di quel film che aveva fatto, non mi ricordo, Il cielo sopra Berlino, piuttosto che, direi solo delle stupidaggini, esattamente come quelle che dice Wim Wenders, da Berlino o da dov'è, giudica una cosa per sentito dire, per immagini. Non è così che si gestisce un problema con l'immigrazione clandestina, dai! E Aniese? Non è con i filmetti o i filmoni che siano, dopodiché sono stati fatti film anche su dei criminali, cioè non è che essere oggetto di un film significa essere una brava persona. Però, 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 ora, Mimmo Lucano non gestiva l'immigrazione clandestina che aspetta i governi.